faremo un'insalata piepita di filetto ritorno su un'insalata di finocchi a grumi ai profondi siciliani sfruttiamo la caratteristica di questo prodotto di avere i filetti interi belli grandi prendiamo i nostri filetti e lasciamo sgocciolare nel frattempo prepariamo la nostra insalata che sarà a base di filocchi e a grumi prendiamo un pompelmo rosa useremo una limetta o lime un arancio e un limone questi sono i nostri agrumi di base che concorreranno alla preparazione della ricetta li prenderemo tutti a vivo ovvero andremo a togliere buccia in parte bianca lì dove nella parte bianca ci sono essenze amare che non vogliamo presente all'interno della nostra ricetta stagliamo il nostro finocchio avendo accortezza di fare le fettine della parte diciamo di penera molto sottili andiamo a consumare il tutto con alcune erbe aromatiche come del timo anche qualche ago di nitrisio che è un'erba spontanea di una macchina interranea presente e andiamo ad impiattare in maniera molto semplice la nostra preparazione togliamo il nostro filocchio togliamo un goccino di olio extraverso in oliva appena un'idea di sale considerando che la nostra preparazione ha già la sua giusta la sapidità data dal filetto di tonno appena un goccio di succo dei nostri agrumi e questa sarà la nostra inseratia di base il nostro filetto che però renderemo piepito quindi in una panella anche aderente appoggeremo il nostro filetto per scaldarlo appena nel sugo rilasciato dagli agrumi con le erbe aromatiche andiamo ad aggiungere dell'olio extraverso battendo il tutto il nostro filetto di tonno il nostro filetto di tonno è stato reso pieno per imprezzercire ancora di più la nostra insalata qualche scaglia di parmigiano reggiano grazie grazie grazie